salve a tutti beh finalmente splende il sole una bella giornata il primo il secondo giorno di primavera oggi e vediamo che la natura si sta risvegliando con i nostri fiori le api che tornano a impollinare i nostri fiori e io sono felice perché con il sole che sarà l'argomento di oggi il mio impianto fotovoltaico va alla grande e quindi andremo a parlare del fotovoltaico e dell'auto elettrica di quanto efficiente è e metteremo giù due dati giusto per capire come funzionano bene adesso saliamo a dove c'è l'inverter così vi spiego due cose bene allora siamo il 22 marzo 2023 adesso c'è una piccola nuvola che sta passando e quindi sta producendo un kilowatt e 92 come vedete l'impianto fotovoltaico stiamo consumando due kilowatt e 74 visto che ho una lavatrice accesa più la macchina del pane e la nostra batteria il nostro accumulo sta dando energia e anche qui consiglio sempre di mettere l'accumulo perché l'accumulo non serve solo alla notte quando non c'è corrente ma anche in questo caso qua che abbiamo la nuvola che sta passando e quindi non basta l'energia prodotta dal fotovoltaico il nostro accumulo la sta aiutando quindi questi due rubinetti qua di energia vanno a dare energia a tutta la casa quindi l'accumulo non intendetelo solo per chi ha bisogno di notte per farla andare di notte serve anche in questi casi qua è un booster che aiuta è come una macchina ibrida un motore in più che aiuta a fare andare tutta la casa senza consumare infatti non sto prelevando niente anzi sto immettendo di energia vedete che la freccetta va verso il traliccio della corrente bene adesso stiamo consumando un po' troppo non so cosa sta succedendo c'è qualcosa che consuma va bene quindi perché vi voglio portare questo video voglio portare questo video con dei dati reali di chi usa l'autovettura di chi ha l'impianto fotovoltaico di chi normalmente noi umani usiamo e non di promesse fatte all'aria che poi non si mantengono e grazie a questi dati qua potete capire magari come funziona realmente l'impianto fotovoltaico e la nostra auto elettrica vi porto dei dati reali vi dico che ci tengo questo video ci tengo perché è il sogno mio che si avvera finalmente avere una casa indipendente per i fatti miei senza avere diciamo coinquilini vicini vicini che per quanto buoni è sempre da condividere con qualcuno ho l'impianto fotovoltaico da 6 kilowatt e ho l'auto elettrica quindi posso autoprodurmi l'energia autoprodurmi l'energia significa consumo zero sì ok poi più scelti ci mettono è perché hai speso soldi per il fotovoltaico hai speso soldi per l'auto logico si spende soldi per tutto e quindi però meglio spenderli e investirli per un rendimento più alto che buttarli all'aria secondo me e qui apro e chiudo parentesi bene passiamo ai dati e così vediamo un attimo come funziona bene quindi adesso passiamo alla parte più noiosa per chi sta ascoltando però i dati sono molto importanti perché in base a quello si costruiscono impianti in base ai dati possiamo capire di aumentare la nostra efficienza bene allora io vi parlo del mio caso della macchina elettrica e per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico allora abbiamo detto abbiamo fatto un fotovoltaico da 6 kilowatt ok massimo e un accumulo da 15 kilowatt e la mia auto che una twingo bene a 22 kilowatt di batteria che mi permette un'autonomia quasi di 200 chilometri bene allora ogni giorno quando vado a lavorare tipo oggi l'ha usata mia moglie che più o meno fa gli stessi chilometri solo andata e ritorno però va bene comunque abbiamo più o meno l'andata alle 8 e mezza di mattina vado a lavoro e ho 11 chilometri per andare bene torno alle 12 e 30 ok e sono 22 chilometri per poi ritornare alle 3 sono 33 e per poi ritornare alle 4 alle 7 7 e mezza di sera e sono 44 chilometri mettiamo una media di 50 chilometri giorno ok perché vi dico questo perché nel mio caso in questa pausa tra mezzogiorno e mezzo e le 15 che alla fine non sono due ore e mezza ma restano due ore ok io in due ore due ore di pausa che è questa qui ok io con queste due ore riesco a caricare a 3,6 kilowatt che poi sono 3,5 più o meno 7 kilowatt di corrente benissimo e adesso vi faccio vedere i dati di marzo e poi i dati di sia dell'auto che anche del nostro impianto fotovoltaico e i dati di Enel che mi mette in conto la corrente quanto ho consumato a parte i primi due tre giorni che non era bel tempo adesso che c'è bel tempo e quindi riesco a produrre 26 27 kilowatt al giorno circa con giornate normali 24 anche kilowatt riesco a produrre una corrente per far funzionare tutta la casa per caricarmi la batteria per far funzionare la notte e in più anche a caricarmi l'auto elettrica quindi a chi dice l'auto elettrica non va bene non va bene in base al caso perché in questo caso qua a me fa consumare zero euro di spesa non zero di consumo ma zero euro di spesa perché riesco a caricarmela e adesso vi faccio vedere i dati perché con i dati non si può mentire su renault mai renault ok quanto finalmente adesso non ho messo anche quanto sta consumando la mia renault cioè quante ricariche faccio vado su storico delle ricariche un attimo che si apre e marzo fatto 32 ricariche ok per un consumo di 98 kilowatt bene vado a febbraio e poi vi spiego perché sto facendo questo calcolo se si apre 171 kilowatt ok e vado a gennaio quando l'avevo prendendo una presa quindi ho fatto poche ricariche e sono 33 kilowatt ok 37 ok quindi vado a fare la somma di questi kilowatt qua che sono 8 più 1 9 più 3 2 10 19 0 302 kilowatt va bene sono 302 kilowatt ed ho percorso fino adesso 2.228 chilometri bene quindi da qui riesco a capire quanto faccio con un kilowatt di corrente adesso andiamo a fare due conti sono praticamente 7,2 7,23 quindi ogni kilowatt di corrente faccio 7,23 chilometri bene questo perché questo vi faccio capire che se io vado a ricaricarmi 7 kilowatt 7 per 7 7,23 per 7 sono 50,63 chilometri quindi nella mia pausa pranzo io ricarico 7 kilowatt che mi bastano per andare tornare ogni giorno quindi ogni giorno io a mezzogiorno la carico ebbene in questo caso mi viene in aiuto l'accumulo che ho nel mio impianto fotovoltaico perché se al momento ci sono delle nuvole o cose del genere lei pesca l'energia dalla batteria che ha caricato durante la mattina che eravamo via quindi se ho bisogno di 3 kilowatt e 6 che sono i 16 ampere mi aiuta direttamente la batteria dell'accumulo del fotovoltaico bene ora vi faccio vedere il video di quando arrivo a casa e di come si carica la batteria bene io sono arrivato a casa adesso metto sotto carica la mia twingo vado a accendere questo qui tiro su vado a selezionare gli ampere in questo caso lasciamo a 16 così è più veloce neanche caricarsi e poi vi faccio vedere il fotovoltaico nel frattempo quanto sta producendo quando e quando consuma colleghiamo il nostro cavo bellino vediamo che adesso mi dirà 3 ore la macchina sarà carica al 62% io andrò via prima non riuscirò a caricare al 100% però quello che mi basta per andare e tornare e andare e tornare ogni giorno più che sufficiente bene avete visto che ho messo a 16 ampere e adesso sto caricando adesso vi porto a vedere nel fotovoltaico quanto sta consumando questa registrazione è stata fatta ieri non oggi perché è alla mattina adesso eccoci qui davanti al nostro inverter abbiamo collegato come avete visto la nostra twingo elettrica con 16 ampere quindi consuma 3 kilowatt e 6 andiamo a vedere che comunque il nostro impianto adesso sta producendo 3 kilowatt e 99 quasi 4 stiamo immettendo nella batteria di accumulo 0,17 15 e ne sta consumando 3 kilowatt e 60 4,80 adesso c'è qualcosa che ogni tanto assorbe quindi quello che sta facendo il fotovoltaico sta caricando soprattutto l'autovettura elettrica quindi costo 0 e questo che secondo me è l'efficienza non stiamo consumando nulla e stiamo caricando l'auto per andare poi a lavoro o per andare a farci un giretto questi sono i dati che a me interessano più di tutto ok avete visto che sta caricando e non sta consumando nulla di preciso bene e adesso invece voglio portarvi i dati di Enel allora adesso vado ad aprire la mia applicazione Enel Energia vi apro direttamente sul grafico altrimenti ci sono i miei dati insomma che non è che voglio nascondere nulla però luce bene questo è il grafico dei consumi di marzo vedete che il primo marzo il 2 di marzo ci sono stati delle giornate di brutto tempo quindi il fotovoltaico non ha prodotto però gli altri giorni comunque sono 8 kilowatt di consumo 3 kilowatt e avanti adesso che stiamo andando avanti con delle bellissime giornate vedete 2 kilowatt di consumo 1 kilowatt e 7 questo neanche non me lo legge 1 kilowatt e 03 adesso aspettate che metto il touch così ecco qua 3 kilowatt e 03 ieri perché c'è stato vabbè abbiamo fatto più lavatrici dal solito comunque tutti questi dati qua sono dati che da confrontare nel senso che nel mese di marzo io fino adesso ho consumato 112 kilowatt devo calcolare che i primi tre giorni se non sbaglio dovrebbero essere 20 kilowatt e 23 kilowatt quindi sono 20 23 e 8 51 kilowatt metà kilowatt sono solo dei primi tre giorni se poi vado a vedere il resto ok abbiamo comunque dei consumi veramente bassissimi e per me questo è l'autoconsumo l'autoconsumo significa che riesco a farmi l'energia da solo e sfido qualsiasi persona o qualsiasi mezzo di autoprodursi l'energia per muoversi cioè come se io avesse un pozzo di petrolio nel giardino ogni tanto butto dentro un po' di litri di benzina vabbè ci sono tutti i trattamenti da fare però come se io avesse un pozzo di benzina direttamente sul mio giardino e questo non esiste non esiste né per la benzina né per il metano né per il gpl né per nessun'altra cosa l'unica cosa per autoprodursi è l'energia elettrica e quindi l'auto elettrica secondo me è la cosa più sostenibile in assoluto più anche l'efficienza comunque abbiamo visto che un kilowatt di corrente facciamo 7,2 km ok andando alla natura normale tutto quello che devo fare e tra l'altro il venditore mi diceva che comunque questo tenderà a salire quindi da 7,2 potremmo anche avere picchi di 9 km al litro a kilowatt scusate quindi ogni chilometro quanto mi costa se la corrente adesso costa intorno ai 45 centesimi adesso siamo al kilowatt facciamo conto di non avere il fotovoltaico va bene abbiamo 45 centesimi al kilowatt 45 facciamo 49 così ci togliamo il pensiero 49 centesimi al kilowatt sono 0,07 centesimi al chilometro siamo su prezzi che io ce le ho con la Captur GPL però devo andare a togliere il bollo auto devo andare a togliere che l'assicurazione è diminuita di quasi 100 euro e devo andare a togliere che l'energia me la produco quindi su 15.000 km che faccio all'anno se ne ricarico 1.000 km nella colonina comunque 1.000 km per 49 centesimi che siano 50 centesimi sono 50 euro 50 euro all'anno di energia quindi secondo me la coppiata impianto fotovoltaico auto elettrica è la cosa più giusta che può esistere poi ditemi voi bene spero di non avervi annoiato troppo con questo video però i dati sono dati e bisogna scriverli spero di aver convinto anche i più scettici dell'auto elettrica che l'auto elettrica è efficiente è risparmio ed è sostenibilità perché se ho l'impianto fotovoltaico per non ripetere che mi autoproduco l'energia elettrica io sono a posto se non avete l'impianto fotovoltaico dovete fare 10.000 km al giorno non fa per voi l'auto elettrica l'auto elettrica va bene per chi fa questi spostamenti qua per chi ha l'impianto fotovoltaico e per chi l'energia se l'auto produce secondo me poi ognuno dice la sua bene se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale per cortesia vedo tantissime visualizzazioni e qualche iscritti aiutatemi oppure scrivetemi nei commenti perché non vi iscrivete o non vi interessa o queste cose e attivate il tasto delle notifiche bene grazie a tutti e arrivederci grazie